Con questa poesia voglio interpretare un'idea che diventa tratto, che si trasforma in spazio. Con questa poesia voglio un ponte indesplutibile. Mi tattica è quedarme in tuo ricordo, non so come, non so con che pretexto, però quedarme in voi. Mi tattica è essere franco e sapere che sei franca, e che non ci vendiamo simulacri per che tra l'altro non sia talone o abismos. Mi tattica è in cambio molto più profonda e più sencilla. Mi tattica è che un giorno qualcuno non so come, non so con che pretexto, per fin mi necessità. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!